Troppo smog a Salerno ed è scattato lo stop ai veicoli a gasolio più inquinanti, sarebbero circa 43.000, secondo i dati del Ministero dei Trasporti. Ma dell'ordinanza firmata dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per cercare di limitare le emissioni nell'aria di biossido di azoto, sembrerebbero non essere ancora a conoscenza tutti i salernitani. L'ente sta cercando di diffondere le informazioni sulle prescrizioni, mentre i controlli affidati alla Polizia Municipale sono ancora blandi. Dovrebbero essere sei in più le pattuglie pronte a vigilare sulla città, coinvolti dalle limitazioni anche i mezzi più inquinanti come camion e tir. I camion possono circolare se rispetto a determinate caratteristiche che l'ordinanza disciplina o in seguito anche quelle particolari attività di merce che devono trasportare, che quindi possono derogare nel rispetto della norma alle limitazioni indotte in questo momento quando riguarda l'immissione di CO2 nell'atmosfera. Intanto le multe per i trasgressori delle prescrizioni contenute nell'ordinanza possono raggiungere i 650 euro, mentre è disposto il ritiro della patente di guida per i recidivi. Lo stop ai veicoli inquinanti a Salerno rimarrà valido fino al rientrare degli sforamenti del valore di biossido di azoto.